Ciao e bentornati a Crochet Romance, io sono Lisa e oggi vi farò vedere dei filati in occasione dell'evento che ha organizzato Manuela del canale Black Sheep Wool Art insieme a Giulia del canale MG Creation 83. Io partecipo per la parte dei filati, quindi per tutti i dettagli per questo evento di beneficenza andate poi a vedere il video di Giulia che vi linkerò qua in alto e anche giù nell'info box. In questo video parlo solo dei filati perché è inutile che vi spiego di nuovo l'evento quando già il video esiste. Io vi ho menzionato queste due ragazze, però l'evento ufficialmente è organizzato da un'associazione senza scopo di lucro, però loro hanno deciso di divulgare la voce e di partecipare e anche io partecipo volentieri. Allora, vi faccio quindi vedere i filati che sono adatti per realizzare le mattonelle per questo evento. Il più economico che abbiamo è il Picnic che è un 100% cotone povero e 50 grammi fanno 115 metri e si lavora con l'uncinetto 3-3,5. Il codice colore è il numero 40 e attualmente in quantità sufficiente ho solo il rosso di questo tipo di colore, mentre il bianco e il verde mi sono momentaneamente esauriti. Quindi nel caso andate a vedere sul sito se magari sono tornati, però adesso vedrete che abbiamo tantissime alternative con il bianco. Faccio anche subito questa piccola premessa. L'evento è ancora a distanza di tanti mesi, quindi probabilmente nello sviluppo dei mesi succederà che uno dei filati che vi presento qui non sarà più disponibile, ma magari abbiamo un altro filato in alternativa. Se dovessi vedere che vale la pena fare un altro video, farò un altro video, altrimenti se siete in dubbio potete contattarmi su Facebook, su Messenger, su Whatsapp, sul mio sito www.filatiromanze.com. Trovate tutti i miei contatti, quindi se avete un dubbio sulla scelta del filato, contattatemi pure. Il secondo filato che vi faccio vedere è il canna da zucchero, anche questo va benissimo per fare la mattonella e l'abbiamo nel colore bianco codice 1 e 50 grammi fanno 110 metri. Quindi come metratura è molto molto simile al filato picnic, però questo è una viscosa da canna da zucchero, è un filato un po' più morbido, un po' più lucente, un po' più di pregio. Un filato più spesso, fresco, estivo è il fibra di perla, anche questo l'abbiamo nel codice colore numero 1 per il bianco, 50 grammi fanno 126 metri, quindi fa un po' di più questo filato come metratura, però anche questo è abbastanza spesso e si lavora velocemente. Io ho cercato di presentarvi dei filati che si lavorano velocemente, perché dovete fare comunque delle mattonelle 40x40, non è poco e quindi preferisco che il lavoro si svolge veramente velocemente, così magari potete fare anche più di una mattonella. L'unico più sottile, ve lo presento adesso, che è il Mon Amour, è un filato in 100% microfibra, abbiamo i colori rosso con il colore numero 19, abbiamo il bianco, che è il codice 1, e il verde, e il colore 14. Allora, ho fatto un po' fatica a trovare del verde adatto per fare la bandiera, questo è l'unico in tutto lo shop che mi è piaciuto per fare una bandiera, adesso dalla camera non si vede tantissimo, è un po' più chiaro rispetto a quello che vedete in camera, però è proprio questo verde bandiera, quindi questo è il colore 14. Questo è un filato in 100% microfibra, vediamo anche qua la metratura e i uncinetti ferri consigliati, allora, qua c'è scritto ferri, uncinetti 4 e 4,5, però io l'ho lavorato e con l'uncinetto userei il 3,5, mentre per i ferri va bene, l'indicazione che abbiamo sull'etichetta, vediamo se trovo anche la metratura, 50 grammi fanno 135 metri, quindi questo è uno dei filati più economici che abbiamo, con un'ottima resa, perché 135 metri a gommitolo rende veramente tanto, e questo l'abbiamo anche in tutti e tre colori per la bandiera. Poi, per chi ha veramente poco tempo o vuole fare tantissime matonelle, abbiamo il filato a braccio, che è un filato veramente molto molto spesso, 100% microfibra anche questo, e il rosso ha il colice colore numero 19, e questi sono gommitoli da 100 grammi, allora vediamo, qua i uncinetti consigliati sono 6,5 a 7, e la metratura per 100 grammi sono 150 metri, quindi di questo abbiamo nei colori adatti sia il filato rosso che il bianco, che vediamo se anche questo c'è il codice colore numero 1, 100 grammi a gommitolo, e questo con l'uncinetto 6 o i ferri 6,5 a 7, lo lavorate tranquillamente in pochissimo tempo. Poi vi faccio vedere altri due tipi di filati che per l'occasione li trovo un po' inadatti, però ho detto ve li faccio vedere comunque, non so mai, ognuno di voi ha il suo gusto, perché non li trovo adatti per l'evento, perché sono filati della fascia alta di prezzo, quindi sono filati preziosi, e quindi non so, magari secondo me per questi eventi di beneficenza uno non cerca proprio il lusso assoluto, perché vanno benissimo questi, perché calcolate che la bandiera poi verrà portata da tante persone in piazza pubblica, deve sfilare, secondo me va bene anche una fascia più bassa. Poi mia opinione, però vi li faccio vedere, se volete usare il filato pregiato Cadi della filatura di Crosa, è un filato 100% made in Italy, l'abbiamo nel colore bianco, codice numero 1, e qua, vediamo anche qua l'etichetta, 50 grammi, fanno 125 metri, e si lavora con i ferri uncinetti numero 3 e 4, quindi se volete potete ovviamente scegliere anche questo, siete liberissimi, e il colore rosso l'abbiamo con il codice numero 19, ed è lo stesso filato, è un 100% cotone, mercerizzato, gasato, quindi veramente un filato spettacolare, lucido, io questo qua lo userei per fare degli accessori casa, proprio che rimangono belli belli nel tempo, lo userei per fare delle borse estive, quelle a sacco praticamente, ma perché no anche per fare cappelli estivi, per fare magliette ai ferri, all'uncinetto, delle gonne, veramente se volete un capo ben rifiniti per fare un cardigan, questo è proprio bellissimo questo filato, penso di usarlo presto, perché non vedo l'ora di provarlo, allora poi abbiamo per ultima alternativa il filato Zara, che è un 100% lana merinos, extra fine, super wash, anche questo della categoria filati pregiati, 50 grammi, fanno 125 metri, e si lavora con l'uncinetto ai ferri 3,5-4, quindi sicuramente questo filato ve lo consiglierò in un'altra occasione, per un altro evento di beneficenza, però oggi ci fermiamo con questo filato, il codice colore è 1466, ho qua anche il bianco, però ho visto che a confronto con altri bianchi, questo è un bianco più naturale, quindi lo vedo meno adatto, vi do comunque, se vedete anche qua, questo è il Monamour, vedete che è più bianco rispetto al Zara, perché questo è un po' più naturale come bianco, questo comunque è il codice 1396, però ecco, lo consiglio meno, perché per la bandiera ci sta un bel bianco lucente, non questo che è più naturale. Ok, questi sono tutti i filati che attualmente ho a disposizione, che sono adatti per il progetto, spero di non avervi annoiato troppo, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, e abbiamo creato un gruppo Facebook dedicato solo per chi partecipa all'evento e ho preparato un codice sconto per chi vuole comprare il filato per realizzare queste mattonelle. Lo sconto sarà applicato solo per i filati che sono adatti per fare le mattonelle, quindi se voi ad esempio scegliete di prendere il Monamour nel colore blu, allora sul blu non c'è lo sconto, solo sul verde, bianco e rosso per i filati che ho presentato in questo video. Questo per agevolare un po' per chi vuole partecipare a questo bellissimo evento di beneficenza, sapete che una volta terminato l'evento queste mattonelle vengono disfatti e poi vengono rielaborati dai volontari dell'associazione per fare altri oggetti che poi verranno venduti a scopo benefico per le donne, per la ricerca per il tumore al seno. Quindi penso che noi siamo, per la maggioranza siamo qua donne che stanno lavorando all'uncinetto, anche se i uomini non mancano, quindi penso che è una tematica che interessa a tutti noi e spero che partecipate in tanti, ci vediamo sicuramente sul gruppo Facebook. Se non siete su Facebook e volete partecipare e vi serve lo sconto, contattatemi, come vi ho detto prima, o per email oppure direttamente sul cellulare, su Whatsapp e vi darò il codice sconto anche in occasione dell'evento. Bene, spero che sia stato tutto chiaro, se avete domande scrivetemi sotto e ci vediamo presto. Ciao!